Oggi nella nostra scuola, nell'Istituto Guaraci Calabretta di Soverato, festeggiamo l'ESABAC in Calabria. Parte proprio dalla nostra scuola il 9 di maggio, quindi festa dell'Europa, questa staffetta che andrà a toccare tutte e 13 le scuole calabresi che hanno la sperimentazione ESABAC. Il nostro istituto, oltre ad avere l'ESABAC, ha l'ESABAC Tecnode, l'unica scuola di tutta la Calabria ad averlo. E questo tipo di percorso permette ai ragazzi di ottenere il doppio diploma, il diploma di Stato italiano insieme a quello francese. Nella giornata di oggi vorremmo ricordare che cos'è questa ESABAC, farlo pubblicizzare, in modo tale che i ragazzi delle scuole di secondo grado, di primo grado, e poi quelli del bienio di secondo grado, possano rendersi conto dei vantaggi che possono avere intraprendendo questo percorso di studi. È un percorso di studi che approfondisce lo studio della lingua francese e lo potenzia insieme all'insegnamento di una disciplina non linguistica direttamente in lingua, fatta da una docente madrelingua che affianca la docente di letteratura italiana. Quindi è un percorso completo che dà tanti vantaggi ai ragazzi che decidono di intraprenderlo. Questa giornata è stata voluta dall'USR Calabria e della dottoressa crescente si è occupata dell'organizzazione insieme all'attaché de coopération pour le français, l'Ela Shaib, che ha sede, ha la sua sede nell'istituto francese di Palermo. Faranno il giro appunto di tutte queste scuole per far conoscere che cos'è l'ESABAC nella nostra regione. Abbiamo approfittato poi di questa giornata per poter coinvolgere gli alunni della scuola secondaria di primo grado, i ragazzi della scuola di Soverato e quelli di Montepaone per far conoscere la realtà ESABAC nella nostra scuola. Inoltre abbiamo invitato gli alunni della 2020-21 che si sono appunto diplomati in quell'anno per la consegna dei diplomi. Quindi in questa giornata approfittiamo per far conoscere la lingua e la cultura francese per promuovere questo percorso. Un'altra iniziativa interessante è che in questa giornata presentiamo anche i lavori realizzati dagli alunni del nostro istituto nell'ambito del progetto Erasmus Articap che ha coinvolto i ragazzi della quarta e della quinta classe che partiranno domani in Francia per completare appunto il progetto Articap.